La Guzzi del futuro, secondo vibrazioni Art Design, è la V7 Trevisione. La Special del Team Romagnolo è debitrice dei concept futuristici anni Sessanta e si potrebbe quasi definire una moto retrofuturista. La Visione è una special carenata che affianca carbonio e lamiera industriale recuperata. La monoscocca con serbatoio e coda posteriore è realizzata in lamiera, mentre le carene laterali e il copriruota anteriore sono in carbonio. Le parti in lamiera sono state verniciate con una speciale vernice fotocromatica che sopra i 20 gradi centigradi diventa trasparente. I fari, secondo vibrazioni, non esisteranno più. Saranno sostituiti da una telecamera infrarossi collegata a un tablet sul manubrio. Ma la vera sfida affrontata da vibrazioni Art Design è stata sostituire completamente il sistema di propulsione. La loro visione è senza ombra di dubbio la prima guzzi elettrica al mondo. Tra 150 anni le guzzi saranno green.